Articolo 179 La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta Due anni Giorami che sei pentito Te lo giuro Ricordati che tu sei sempre proprietà della Digos Guarda come ci stiamo organizzando Se vuoi puoi dirigere il trappo Comportati bene E vedrai che metti da parte anche i soldi per la riabilitazione Lo sai Vesuviano che tu fai? La cresta? Hai mai pensato di fare fuori anche me? Tu non mi fotterai mai Amore Ma sei sveglia? Ma dove sei stato? Non è che hai un amante Robi Ma per favore Scusami Nel mio paletto Allora 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 Grazie per la visione